Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube, oggi mi trovate per la prima volta qui sul canale appunto in una veste diversa, infatti insomma è una specie di segreto di pulcinella per chi mi segue assiduamente su Twitch, su Instagram e ieri era presente alla presentazione che abbiamo fatto in live sul canale di Olli e finalmente posso dirvelo, non è più un segreto, infatti sono passati pochi giorni dall'ultima volta che mi avete visto in casacca makers, ma oggi vi comunico che sono entrato a far parte ufficialmente del team Exceed come pro player ovviamente di FIFA su Xbox e che dire, sono veramente veramente tanto contento perché chi mi conosce, anche voi che mi seguite magari, sa quanto sia stato difficile luttare l'ultimo mese e mezzo, quante difficoltà io abbia incontrato insomma nell'andare a svolgere quello che era il mio lavoro nella maniera e con l'ambizione che ritenevo fossero adeguate insomma alla mia persona e è qui che devo fare un grande 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 ringraziamento in primis chiaramente a Olli per aver messo la pulce nell'orecchio di poter concludere questo trasferimento chiamiamolo così e in secondo luogo ovviamente anche a Ivan e Federico che sono due dei fondatori di Exceed con i quali ho avuto modo di parlare che mi hanno fatto sentire fin da subito quanto ci tenessero ad avermi a bordo quanto per loro fosse importante avermi all'interno di questa società dal canto mio vi ripeto sono super contento anche perché ci sono tutte le condizioni per poter lavorare in un certo modo trovo due grandi amici come Olli e come Daniel con i quali continueremo sicuramente a fare i peggio macelli e si spera che l'anno prossimo potremo anche partecipare a competizioni insieme il roster a questo punto è composto da me appunto su Xbox dal buon Daniel su Play e il nostro coach sarà Olli i presupposti veramente per fare bene ci sono tutti soprattutto il buon Danny veramente ha una voglia di riscatto pazzesca quindi sono veramente 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 convinto che l'anno prossimo ci sono veramente tutti i presupposti per poter andare ad affrontare la stagione di FIFA 21 in un certo modo quindi niente questo era un breve video aggiornamento e spero insomma che continuerete a supportarmi a supportarci in questa nuova avventura e niente per il resto un grande ringraziamento ragazzi anche a voi che ci siete sempre che in ogni momento mi fate sentire il vostro calore anche quando magari mi sento un po' giù un po' espaisato e anche grazie a voi che sono riuscito a raccogliere i risultati che appunto ho raccolto in questi anni veramente non smetterò mai di ringraziarvi e anzi ci tengo a sottolineare che ragazzi veramente siamo solo all'inizio perché abbiamo veramente tante altre soddisfazioni da toglierci tutti quanti insieme quindi per questo video è tutto raga e non mi resta altro che salutarvi ci vediamo come ogni giorno in live su Twitch dalle 12 alle 16 e un salutone peace